In natura esistono tantissimi animali che sono ottimi pescatori. Molti di loro utilizzano delle vere e proprie esche per catturare le prede. L'esempio più celebre è sicuramente dato dalla rana pescatrice che ha l'esca incorporata. Ma proprio in questi giorni è stato pubblicato uno studio che riguarda invece i ragni, che utilizzano un'esca molto particolare. In Cina infatti sono stati osservati dei ragni che utilizzano delle lucciole catturate nella loro ragnatela per attirare altre lucciole. I ragni non uccidono gli insetti intrappolati finché continuano a emettere luce perché evidentemente attirano altre prede. Ma a tutto questo si aggiunge un dettaglio veramente sorprendente e cioè che queste lucciole sono principalmente maschi. I maschi emettono una luce leggermente diversa per intensità e frequenza rispetto alle femmine, ma quando vengono catturati cominciano a imitare la luminosità delle femmine, attirando in questo modo altri maschi nella ragnatela. E tutto questo chiaramente va avanti per la felicità del ragno che cattura sempre più prede. Rimane ancora un mistero da chiarire. Perché i maschi cambiano la loro emissione luminosa per imitare le femmine? Potrebbe essere una loro strategia di difesa, ma non se ne capiscono le ragioni. Oppure potrebbe essere il ragno che in qualche modo modifica il comportamento delle sue prede. In questo caso sarebbe qualcosa di veramente straordinario. Speriamo di scoprirlo.